Il numero 107 del catalogo ITS Si chiama Zakapa B Una femmina nata il 29 maggio Figlia dello stallone emergente Men of Many Missions E di Arcade Dra Dalla produzione senza passaggio a vuoto Nell'ordine Luxor B 1,13 Magret B 1,11,8 Nicklaus B 1,12,6 Scarlett B 1,13,3 Zigana B 1,14,4 Grazie a tutti